Doppio il messaggio dell'artista nella mostra The Making of L'Aquila, che parla della genesi della sua opera attraverso le immagini e anche con il suo prodotto finito. L'originale esposizione approda anche all'Aquila dopo il successo nella capitale, sostenuta fra gli altri dal Ministero per i Beni Culturali, al secondo piano di Palazzo Fibioni, sede del Comune dell'Aquila, 13 le opere in mostra di artisti del calibro di Berengo Gardin, Mariani, Pomodoro, Licia Galizia. L'arte contemporanea è un cantiere, è un cantiere in cui ancora non riusciamo a capire quale sarà la forma, tant'è vero che la mostra espone una moltitudine di artisti con moltiplici linguaggi, sì il doppio perché da una parte c'è l'opera esposta, ma verrà proiettata sul muro attraverso un proiettore appunto, e quello che è l'opera che viene realizzata nello studio dell'artista. Accanto alle opere si è deciso di proiettare una percezione intima dell'autore. L'opera vive dunque accanto al suo doppio virtuale. La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e 30. La mostra è il risultato di questa esperienza televisiva che è stata fatta in una trasmissione che si chiamava Art News, che è andata in onda su Rai 3 per sette anni. Accanto ad ogni mostra, accanto ad ogni opera, c'è il video che documenta la realizzazione di quell'opera, quindi il binomio è ben rappresentato in questa esposizione.